Siamo con Martino Portovenero, nuovo allenatore da poche ore della Futsal Rio Nero. Cosa l'ha spinta ad accettare questa chiamata del Presidente Maulà? Ci siamo sentiti qualche giorno fa, quello che mi ha spinto a accettare quella che è stata la proposta del Presidente di Etterore Sportivo, la chiarezza del discorso che ci ha fatto il Presidente, la serietà, lo conosco da parecchio tempo, e quello che si prospettava, un progetto, speriamo dura duro negli anni, che possa portare Rio Nero in posizioni di classifica che gli competano. Presidente Maulà, abbiamo visto quest'anno un inizio di stagione leggermente in salita per la Futsal Rio Nero. Cosa l'ha convinta a chiamare alla guida tecnica il nuovo mister? Diciamo che è stato un inizio inaspettato rispetto a quello che ci eravamo preventivati all'inizio stagione. Sicuramente anche la sfortuna non è stata dalla nostra parte. Dopo la partita a Taranto, di comune accordo con ormai ex mister e staff di Taffarell, abbiamo deciso che dovevamo dare una svolta a questa stagione, anche perché loro magari avevano perso fiducia nel progetto, quindi noi dovevamo prendere una decisione. Ci siamo riuniti stesso lunedì e abbiamo deciso di affidare la panchina al mister Martino. Mister, un allenatore di grande esperienza ha accettato la guida tecnica della squadra rionerese. Qual è stato il primo impatto con questa nuova realtà sportiva e soprattutto dove vuole arrivare la fuzza al rionero? Diciamo che il primo impatto è stata una novità per quello che mi riguarda, vedere al palazzetto 6, 7, 8, 9 dirigenti, tutti lì a darsi da fare. Questa è una grande novità perché fa vedere anche un po' la stabilità, la serietà della società. Non è semplice trovare tutti quei dirigenti al campo. Voi in questo momento non giocate al rionero, giocate in una struttura vicino, quindi già la presenza di queste persone è importante. Dove vogliamo arrivare? Io e il mio collaboratore Antonio Guerra abbiamo parlato molto di questo. Chiaramente non è che noi, non ci spaventa la cultura del lavoro, non ci spaventa qualsiasi tipo di avventura che affrontiamo, però è chiaro che in questo momento abbiamo qualche piccola difficoltà, qualche infortunio di troppo. Aspettiamo che in questo momento di fare necessità a virtù. Però ci sono delle individualità, secondo me, molto ma molto valide. Abbiamo un portiere di 16 anni che secondo me, come diceva il Presidente, è un patrimonio per questa società. Abbiamo il capocannoniere della scorsa stagione. Abbiamo il capitano che comunque è una ragazza di esperienza. E altre ragazze giovani delle 97 che sono veramente, secondo me, si può puntare. Al momento siamo pochini, però aspettiamo, siamo fiduciosi che gli infortunati possano riprendersi. Secondo me il posto che compete sicuramente a Rio Nero non è quello che attualmente occupa. Detto ciò, penso che il lavoro fatto dal Minister Taffarele sia stato un lavoro comunque importante. Come ha detto il Presidente, tante volte alcuni fattori come la sfortuna, molto importante nei risultati. Ci sono state le partite che si vinceva 4-0, poi si è andata sul 4-4. Insomma, quindi la sfortuna è un valore molto importante. Adesso cercheremo di invertire un po' la rotta, che insomma la fortuna ci assista insieme a quello che dicevo prima, la cultura del lavoro e dell'impegno all'interno del rettangolo di gioco. Presidente Maulà, con l'arrivo del nuovo allenatore, sicuramente l'obiettivo della Fuzzle è quello di conquistare al più presto la salvezza e puntare anche a qualcosina in più nelle zone medio-alte della classifica. Secondo lei serve qualche ritocco all'organico oppure la squadra va bene come allo stato attuale. Sì, allora noi di questo ne abbiamo parlato anche già con il nuovo staff. Cosa ci è successo? A noi in questo momento, come ho detto anche alle ragazze, siamo caduti, diciamo, a causa appunto degli ultimi eventi. Però quello che voglio far arrivare alle ragazze e a tutti è che comunque come società e come dirigenzi, dirigenti siamo abbastanza uniti e combatti perché io sfideri qualsiasi società a trovarsi in una situazione del genere e a non rialzarsi e continuare ad andare avanti appunto perché giochiamo in un campo che sono comunque 25-30 minuti da rio nero. Non è semplice. Tante difficoltà appunto e io sfideri qualsiasi società a rialzarsi. Io sono fiducioso e ho tanta fiducia nei miei collaboratori e nei dirigenti che mi aiutano in questo progetto altrimenti appunto non saremmo qui a parlare. Continuiamo e il nostro obiettivo dovrà essere appunto sì, arrivare subito alla salvezza però cercare di toglierci qualche soddisfazione in più e quindi il progetto che era appunto iniziale a giugno ovviamente lo dobbiamo continuare a portare avanti. Vedremo a dicembre, adesso fra pochi giorni si aprirà la sessione di mercato invernale vediamo se riusciamo a portare qualche rinforzo in più altrimenti come appunto ha detto anche il mister al primo incontro con le ragazze noi abbiamo un'enorme fiducia nell'attuale roster quindi se arrivano è bene, se non arrivano sicuramente io conoscendo le ragazze daranno il massimo per rispettare i progetti e per valorizzare appunto la maglia del rionero. Presidente ha detto poc'anzi le difficoltà che sta creando la temporanea indisponibilità del palasport di rionero sicuramente questo penalizza la società ma penalizza soprattutto la comunità rionerese per via delle continue partite in casa giocate a maschito per tranquillizzare tutti gli sportivi ci parli un po' di più o meno i tempi per avere a disposizione questa struttura? Questa domanda magari non la deve fare a me ma la dobbiamo andare a fare anzi magari se ci andiamo insieme andiamo a fare all'amministrazione quindi chiediamo a loro quanto tempo manca per aprire questo palazzetto ogni giorno slitta ed esce una data adesso siamo arrivati all'8 dicembre l'8 dicembre prima o poi arriverà anzi è quasi alle porte quindi non ci spaventa aspettare adesso un'altra settimana vedremo l'8 dicembre cosa accadrà sicuramente se lo apriranno l'8 dicembre non riusciremo a fare nessuna partita per il giro né andata perché giocheremo l'ultima a Salerno il 15 di dicembre qui non ricordo prima in casa con chi giocheremo quindi sicuramente per il pubblico rionirese dobbiamo aspettare l'inizio del girone di ritorno a gennaio comunque mi sento di ringraziare tutte le persone che nonostante i chilometri e non giochiamo a Rio Nero comunque vengono fino a maschito a seguirci e per noi è un grande onore e anche per loro dobbiamo andare avanti perché comunque se vengono a seguirci fino a maschito vuol dire che credono in noi vuol dire che il popolo rionirese crede in noi e credene anche loro nel nostro progetto e quindi dobbiamo andare avanti Antonio Guerro collaboratore del Nuovo Mister raccontaci un po' il tuo rapporto professionale con questo allenatore Buonasera a tutti questo è il terzo anno che sono al fianco di Mister Portovenero settimana scorsa ho ricevuto una chiamata proprio dal Mister e personalmente non ho esitato a dargli subito conferma perché conosco come lavora poi conoscevo, conosco qualche ragazza che è già militato l'anno scorso in Serie A2 quindi sono ragazze propositive sicuramente faremo bene sia noi che il Presidente tutta la dirigenza è per noi una sfida perché Rio Nero non merita questa piazza in classifica quindi sicuramente merita piani più alti e noi siamo pronti per fare questo salto di qualità perché le ragazze ci sono sono propositive bisogna avere solo un po' di pazienza e i risultati arriveranno sicuramente grazie a tutti 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 Grazie per la visione!